Sono Rosangela Censori, presidente della Proloco di Monte Monaco, nonché come lavoro faccio la guida del Parco Nazionale di Monti Sibillini. Marche Storia è un'opportunità per conoscere i nostri borghi, nel caso specifico il programma si sviluppa tra questo fine settimana a Monte Monaco, con il prossimo a Monte Fortino e l'altro a Montegallo, un programma ricco di eventi, di spettacoli, di musica, ma anche di passeggiate verso luoghi naturalistici di particolare interesse, oppure visite ai borghi con delle interpretazioni particolari. Grazie